La sezione Impostazioni account di Swite riassume le informazioni generali dell'account con la possibilità di personalizzare alcune preferenze legate al tuo account e alla mail in lista. Ti faccio vedere come. Una volta effettuato l'accesso al pannello, clicca sull'icona del tuo profilo, qui in alto. Poi clicca su Impostazioni account. Da questa schermata hai la possibilità di personalizzare alcune preferenze, tra cui nome, indica il nome dell'amministratore del sito, cognome, indica il cognome dell'amministratore del sito. Indirizzo email. Digita l'indirizzo email di riferimento, lo stesso che Swite utilizzerà per comunicazioni importanti legate alla gestione del sito, come ad esempio le newsletter, le email di fatturazione e quelle di servizio. Lingua dell'account. Scegli tra italiano e inglese come lingua per il tuo account. Questa scelta avrà un impatto sulla lingua utilizzata sulla piattaforma. La lingua del tuo sito, invece, è modificabile all'interno delle impostazioni sito. Per maggiori informazioni a riguardo, ti consiglio di consultare il tutorial dedicato. In fondo alla pagina trovi anche la sezione dedicata alle impostazioni email in lista. È da qui che puoi scegliere se abilitare o meno la ricezione delle newsletter, con la possibilità di selezionare l'argomento di preferenza. Le modifiche effettuate in questa pagina si salveranno automaticamente.